Circa 2.000 posti di lavoro a rischio su un totale di 64.000 persone che lavorano nelle farmacie. Sono questi i dati diffusi da Federpharma in occasione dello sciopero generale indetto proprio per far comprendere il disagio che vive il mondo farmaceutico in quest'ultimo periodo. E il futuro non è certo roseo sempre secondo Federpharma le norme sulla spending review prevedono tagli nel 2013 per ulteriori 40.000 euro per ogni singola farmacia oltre alle trattenute già previste. Una situazione certo complicata ma per chiarirci le idee ecco i motivi per cui i farmacisti hanno deciso lo sciopero. Lo sciopero di oggi è il frutto di uno stilicidio di provvedimenti governativi che piano piano negli ultimi mesi, anni, mesi si sono stratificati nel nostro mondo e che purtroppo stanno mettendo in crisi l'economia di molte farmacie. Molte lo sono già purtroppo e le altre si stanno rapidamente avvicinando. Si va naturalmente dall'aumento del numero delle farmacie all'uscita di molti farmaci o prodotti che erano esclusivi della farmacia che sono oggi disponibili praticamente in moltissimi altri punti vendita fino agli ultimi tagli della spending review sull'aumento dello sconto del servizio sanitario nazionale che per noi è il core business della farmacia e questo ci mette in forte difficoltà. E non ultimo anche alcuni aspetti proprio un po' deontologici che ci mettono un po' in difficoltà come l'uscita per esempio del laboratorio dalla farmacia. Il farmacista da sempre produce farmaci, sapere che possono produrre anche persone che magari non hanno questa qualifica o in ambienti che non sono qualificati come la farmacia ci mette un pochettino a disagio. Va anche detto che a un certo momento dobbiamo anche capire se per lo Stato abbiamo ancora un senso o se siamo indefinitamente un posto, un punto dove andare a raccogliere denaro in pochi minuti ed avere la certezza che questo arrivi immediatamente nelle casse dello Stato come sta avvenendo perché non ce la possiamo più fare, non riusciamo più a sopportare questo tipo di atteggiamento da parte dello Stato e quindi dovevamo in qualche modo pur consapevoli che oggi tutti si lamentano e che di conseguenza anche la nostra voce si disperde in un mare infinito di voci di lamentele, avevamo il dovere e diritto di farlo anche noi, di far capire che siamo in difficoltà e che abbiamo bisogno di rispetto e di dialogo con lo Stato, con chi ci dà da lavorare sostanzialmente.